E' l'onora Giovannini, autrice del libro Io e Alda Merini, quello che nessuno sa. Madrina dell'evento Il Velo di Iside, una giornata sul tema della violenza contro le donne, che vi vede protagonista a Piazza Salotto, a Pescara, per parlare di questo tema così importante. Ci può parlare del suo libro e delle iniziative che state svolgendo? E' un libro che è dentro questo contesto che stiamo affrontando questa sera, perché parla chiaramente della vita di una poetessa che tutti conosciamo, che è Alda Merini, e che ha lasciato delle impronte di sangue, possiamo anche dire, in maniera simbolica, emblematica, in riferimento alla donna che nel tempo ha sempre comunque subito sotto tanti aspetti, sotto tanti punti di vista. Certo non possiamo dire che Alda Merini abbia subito violenza, ma ha subito il disamore nella vita, l'emarginazione, e questo poi è presente anche in tutta la sua poetica. Io ho avuto modo di incontrarla sicuramente grazie, grazie, per via, in un certo senso, di esperienze in qualche modo parallele, e dal punto di vista letterario e sul piano della vita concreta legata al dolore. Il dolore che nel mio caso rimarca una vita che ho vissuto, sin da bambina forse, non di certo felice, perché ho avuto dei trascorsi che mi hanno portato comunque a soffrire molto, come l'abbandono da parte dei miei genitori, un'adozione avvenuta in tarda età dopo un lungo periodo di collegio. E poi crescendo purtroppo ho incontrato un marito che si è rivelato essere non la persona che mi avrebbe dovuto proteggere, e comunque permettermi un riscatto anche da tutto quello che avevo vissuto, ma al contrario è stato dominante, fortemente violento nei miei confronti, sia sul piano fisico che psicologico, soprattutto sul piano psicologico. E da lì quindi poi è nato questo incontro con Alda Merini, che naturalmente ha visto in me in qualche modo il riflesso anche di quanto lei aveva vissuto, quindi il pathos è stato immediato. Da questo punto di vista poi è nato tutto quello che è stato il nostro profondo legame, che io poi ho riportato all'interno di questo libro. Qual è stato il suo rapporto con questa scrittrice? Un rapporto che si è chiaramente arricchito di tessuto poetico, di uno scambio legato fortemente alla lirica, alla poesia. Una poesia che però deriva, nasce proprio dall'esperienza dolorosa. Nel suo caso un'esperienza dolorosa che l'ha vista protagonista di dieci anni di manicomio, dieci anni di manicomio che lei stessa ha scelto, voluto, in alternativa a questo disamore di cui ho parlato prima, che in questo caso riguardava suo marito. Quindi una donna che sceglie il manicomio al matrimonio, la dice lunga, ti fa capire che comunque dietro c'è qualcosa di forte. E io devo dire che con lei ho avuto modo non soltanto di crescere dal punto di vista della scrittura, quindi stilisticamente come scrittrice, ma come persona soprattutto. Da lei ho imparato tante cose, ho imparato l'autostima, ho imparato a capire che avevo un valore e che non dovevo vergognarmi di riconoscerlo e di usarlo, di utilizzarlo per stare bene, per vivere bene. Quindi è stata una grande maestra per me. Oggi l'abbiamo vista protagonista sopra il palco per un talk dove avete parlato della violenza di genere. Il pubblico molto attento ha capito profondamente queste tematiche. Abbiamo parlato con il cuore, che è la prima cosa, perché le persone, sia quelle che soffrono, sia quelle che non vivono la sofferenza, perlomeno non in maniera eclatante, riescono a percepire quando le parole escono appunto da uno stato d'animo sincero, leale e non da una propaganda o da qualcosa di simile. Quindi ho avuto modo anche questa sera di riscoprire persone che si sono avvicinate, che hanno donne anche, che hanno subito violenza, che si sono fermate a parlarne con me, che si sono fermate anche a chiedermi dei consigli. Cosa che succede anche in altri contesti. Io dico che questo è il più grande successo.